Questo straordinario progetto musicale ideato da Barbara Riccanti, dove una sera di fine marzo mi vedo arrivare un messaggio su Facebook con relativa richiesta di amicizia dove mi chiedeva se potevo contattarla per un progetto musicale internazionale. Secondo voi Luca Marino che poteva rispondere all'invento di Barbara? Cara Barbara, che vuoi che ti dica, le cose grandiose e complicate sono quelle che mi piacciono di più, quindi sfida accettata. In questo progetto non mi serò le due bacchette che solitamente uso per suonare, ma sono una bacchetta un po' diversa da questa per dirigere, quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi buona visione e buon ascolto e viva la musica che ci unisce in tutto il mondo! Grazie! 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 Grazie!